Siete accusato di aver peccato di eresia concupendo una novizia. Non la definirei una novizia. Voi, Casanova, famoso amante delle donne, con l'anomea di avere il più lungo elenco di conquiste mai conosciuto. Il più noto avventuriero del mondo. Finalmente si scontra con la seduzione. Voi sareste? Francesca Bruni. Lei era la scrittrice più dotata e popolare del suo tempo. L'idea che Casanova ha dell'amore comporta il sacrificio di una donna ogni giorno. È l'ultimo uomo di cui avrebbe mai potuto innamorarsi. Datemi un uomo che sia così uomo da dedicarsi solo alla donna che è degna di lui. Si è innamorato di lei. Francesca Bruni. Voi rappresentate tutto ciò contro cui scrivo. La cosa diventa interessante. Dalla Touchstone Pictures. Francesca, il tuo fidanzato arriva domani. È fidanzata. Mi auguro che lei non mi consideri un po'... Rotondo? Scusate, che avete detto? E dal regista di Chocolat. Il più temuto inquisitore del Papa che cosa ci fa a Venezia? Sono qui per arrestare Giacomo Casanova. La storia di un mito che ha messo in gioco tutto. Vi bandisco da Venezia. Non posso lasciare Venezia. Aspetto una persona. Per diventare l'uomo che quella donna aveva sempre sognato. Vedrete il mondo come non l'avrete mai visto. Cominciamo facendo un passo per avvicinarci al cielo. Io sono innamorato di voi, Francesca. È giunto il momento di agire. Keith Ledger. Sienna Miller. Il premio Oscar Jeremy Irons. Inseguite lì! Oliver Platt. E Lina Olin. Il vero amore. Un regalo. La mia padrona dice che il porco non può entrare. Ma il maglialino sì. Merita l'attesa. Casanova.